cerusico presso il cerchio e seno si manifesta una guida che ha operato molte guarigioni la guida è chiamata il cerusico perché nel medioevo il suo lavoro era quello di barbiere e di chirurgo la sua voce è lenta e pastosa le persone trattate da lui non devono essere toccate da altri per un tempo per evitare la dispersione dell'energia ricevuta attraverso il medium nt del cerchio e seno in trance profonda il cerusico ha guarito molte persone è stato detto che nella sua precedente incarnazione il cerusico è stato albert speitzer 1875 1965 medico e filantropo tedesco musicista e musicologo teologo filosofo biblista pastore e missionario luterano franco tedesco nelle ultime riunioni del cenacolo cui da alcuni anni partecipa a chi scrive lo stesso cerusico ha ripetuto che mancano nel cerchio le energie necessarie per le sue terapie e quindi la sua presenza è più utile altrove molti anni fa il cerusico durante numerose trance molto profonde dello strumento nt ha guarito da un cancro molto avanzato anna maria che anche adesso è un assidua frequentatrice dell'esseno e a contatti con massimiliano il figlio trapassato